Lo so solo io. Trattate con me adesso, non con lui. Perché non la fai finita e ci dici che cazzo vuoi o che idea ti sei fatto? Perché sappi che non ce ne andremo a mani vuote da qui. Quei mille galloni di metilammina valgono molto più nelle mie mani che nelle vostre, o in quelle di chiunque altro per l'esattezza. Ma ho bisogno della distribuzione. Distribuzione? Esatto. Se accettate di smettere di cucinare per conto vostro e vi mettete a vendere il mio prodotto, vi darò... Il 35% del ricavaggio. Il 35%, però. Ti sembra così scemo, 35%. Mike, ti prego, dimmi che è uno scherzo. Hai idea di quanto abbiamo dovuto rischiare per avere questo contante? Perché cazzo dovremmo volere te? Lo sai che abbiamo già la nostra attività, vero? Sì, so tutto della vostra attività. I miei soci mi hanno detto che voi producete metanfetamina pura al 70% se vi va bene. Ma quella che produco io è pura al 99,1%. E allora? Quindi siete una squadretta delle medie contro i New York Yankees. La vostra è solo una mediocre sottomarca di generica cola. Invece la mia è Coca-Cola vera. D'accordo. Ok, quindi se ti facciamo fuori adesso e ti lasciamo qui, la Coca-Cola sparisce dal mercato, giusto? Che te ne pare? Restiamo noi. Davvero tu vorresti vivere in un mondo senza Coca-Cola? Il mio socio dice che a seguito del nostro successo siete passati a una ricetta a base di fenilacetone. State colorando la vostra metanfetamina perché somiglia alla mia. Avete già scopiazzato il mio famoso prodotto come più non potevate. Ma ora potreste essere direttamente voi a venderlo. Stammi a sentire. Non rinunceremo al nostro accordo solo per diventare i tuoi galoppini. E per cosa poi? Per dare a dei tossici uno sballo migliore? Uno sballo migliore. Significa clienti che pagano di più. Maggiore è la purezza, maggiore è il rendimento. Parliamo di un profitto di 130 milioni di dollari che non sarà gettato all'aria da qualche vostro cuoco da quattro soldi. Ora ascoltami tu. Hai il più grande cuoco di metanfetamina, anzi, i due più grandi cuochi di metanfetamina d'America. E grazie alla nostra competenza guadagnerete più da quel 35% di quanto non guadagnereste da soli. Questo lo dici tu. Come mai siamo così fortunati? Perché vuoi noi? Mike ha deciso di ritirarsi dalla nostra società. Quindi ora la sua quota associativa è disponibile. Se gestirete il suo ramo, la distribuzione, e se darete a lui 5 dei 15 milioni di dollari che avete portato qui oggi, consideratela una provvigione per averci messi in contatto. Abbiamo 40 once di prodotto pronte per la consegna. Pronte a partire. E voi lo siete. Chi cazzo sei? Andiamo. Tutti voi sapete bene chi sono. Dì il mio nome. Cosa? Io non ne ho la più pallida idea. Non lo so chi sei. Sì, invece. Sono il cuoco. Io sono l'uomo che ha ucciso Gus Fring. Stronzate. L'ha fatto fuori il cartello. Ne sei sicuro? Molto bene. E adesso? Dì il mio nome. Sei Heisenberg. Hai maledettamente ragione. Andiamo internationally. Al prossimo episodio. Al prossimo episodio. Basta.